Francesco Veneziano, vicepresidente della società che rappresenta Grupo Panorama nel mondo, Distal, Grupo Panorama Airlines. Questa sera è un momento importante per voi perché quando si parla di cifre, di obiettivi raggiunti, Coda Verona avete un anno fa presentato questo volo, si fa un bilancio. Sì, allora è andato molto bene e noi continuiamo a investire su Verona perché riteniamo che il bacino di utenza di Verona e del Catullo siano estremamente importanti. Grupo Panorama Airlines è il vettore per eccellenza in Italia per il turista, per i turisti, portiamo in giro per il mondo tantissimi italiani in varie parti del mondo. Cuba e il Caribe, in genere i Caraibi, sono il nostro punto di forza e quindi a gennaio abbiamo inaugurato il volo da Verona per l'Havana e adesso lo riconfermiamo con uno scalo anche a Cancun, che anche questa è una destinazione del Messico che sta andando molto molto bene e abbiamo anche un altro volo per la Romana che è la Repubblica Domenicana. Quindi diciamo che da Verona si raggiungono tre delle principali destinazioni turistiche del bacino dei Caraibi che sono forse tra le destinazioni più ambite da noi italiani. Paolo Arena, presidente dell'aeroporto Catullo di Verona. Per noi è la prima volta che ci incontriamo, speriamo di rivederci ancora anche perché siamo brisciani, abbiamo quel problema che diceva prima cioè voi avete il problema del nostro aeroporto di Montichiari, ha detto due piste, l'importante è che funzioni anche quella di Montichiari. Intanto volevo dire che la pista di Brescia non è un problema ma è un'opportunità che tutti quanti dovremo cogliere insieme. Ovviamente la sfida è una sfida importante però la coglieremo e la seguiremo con tutte le nostre forze. Per quanto riguarda la serata di questa sera, Blue Panorama è un partner estremamente importante per l'aeroporto di Verona. Sicuramente hanno confermato delle rotte, le hanno incrementate. Questo a dimostrazione del fatto che l'aeroporto funziona bene e che la nostra catchment area può fornire un riempimento adeguato per queste lunghe rotte. Abbiamo visto prima nei dati che sono riusciti a riempire fino al 90% quindi un risultato estremamente importante.